buonasera 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 amichi amici non piove per qualche minuto ne approfitto per parlare direttamente con voi superando giornali telegiornali radio commentatori per aggiornarvi sull'ennesima giornata di impegno di ascolto io sono pronto non so voi non vedo l'ora di cominciare a fare non vedo l'ora di cominciare a fare abbiamo limato abbiamo ascoltato abbiamo incontrato abbiamo proposto abbiamo suggerito adesso vorrei cominciare a fare quindi evidentemente nel programma abbiamo messo quanti più progetti della Lega ci fossero e prima gli italiani non è uno slogan ma dovrà essere realtà e quindi via la legge fornero via gli studi di settore riduzione delle tasse priorità ai lavoratori e alle famiglie italiane per i contributi pubblici per il sostegno per i redditi per gli accompagnamenti per le invalidità prima gli italiani vuol dire più sicurezza evidentemente con un uomo della Lega a gestire l'ordine pubblico il ministero degli interni a dare una mano ai nostri uomini le nostre donne della polizia di stato a dare una mano ai nostri sindaci al di là del colore politico per riportare un po di tranquillità e di serenità per le nostre strade sicuramente qualcuno ti fa contro e rema contro avete visto lo spread i mercati le borse è il ministro francese che minaccia e il parlamentare tedesco che minaccia e l'agenzia di rating che dice occhio al debito e a me da cittadino non da segretario della Lega ma da cittadino viene a dire ma scusate seguendo le vostre ricette delle agenzie di rating dell'austerità dei vincoli europei seguendo le vostre ricette il debito pubblico è arrivato ai massimi storici la povertà è arrivata ai massimi storici la precarietà è arrivata ai massimi storici quindi come è possibile farsi dare suggerimenti o peggio ancora ordini o minacce da chi ha portato l'Italia e mezza Europa in una situazione di instabilità precarietà e disoccupazione mai vista nella storia precedente se io mi vado a guardare il debito pubblico negli ultimi cinque anni quindi con gli ultimi governi a guida PD ebbene questo debito pubblico con le ricette imposte suggerite dall'Europa è aumentato di 300 miliardi di euro ma di cosa stiamo parlando come possono essere a dare consigli agli italiani coloro che hanno danneggiato i cittadini italiani è ma per carità di dio io sono educato sono rispettoso sono civile sono di buon senso è però basta di precarietà si muore di tagli si muore di austerity si muore di immigrazione fuori controllo si muore di vincoli europei si muore ecco io ce la sto mettendo tutta metto in gioco la mia faccia e la vostra faccia per dare ai nostri figli un po di serenità in più un po di lavoro in più un po di speranza nel futuro in più non è possibile che ci siano 11 milioni di italiani che utilizzano psicofarmaci può far piacere per tutti gli psicologi gli psicoterapeuti e gli psichiatri che stanno disperatamente cercando lavoro e ce ne sono decine di migliaia che non riescono neanche a pagare i contributi perché ormai è una guerra a ribasso come per gli avvocati ma non è possibile che ci sia un paese che vive di precarietà di paura e di psicoterapia c'è qualcosa che non funziona guardiamo le notizie delle ultime ore quell'uomo una preghiera con la morte nel cuore da papà che ammazza la moglie che butta una bimba giù dal cavalca via facendola sfracellare per terra e poi si suicida chiedendo scusa e oggi un altro uomo che ammazza la moglie è bullismo nelle scuole è un'instabilità un'irritabilità una rabbia che non c'è mai stata fermiamoci un attimo fermiamoci un attimo prendiamoci del tempo respiriamo come si può lavorare a tre euro all'ora una vita in prestito una vita a termine una vita precaria ora non sono superman non sono sul tetto del mondo fra un poco non spiccherò il volo no non son capace però ho ben chiaro in testa che cosa non fare ovvero sia che cosa ci impongono di fare cosa abbiamo subito negli ultimi anni andando indietro invece che andando avanti dignità orgoglio questo vi propongo figlio per carità di un accordo fra due forze politiche diverse come la lega i cinque stelle mantenendo lealtà coerenza perché io ricordo che noi ci siamo seduti al tavolo con i cinque stelle quando berlusconi ha detto fate fate pure piuttosto che non andare a votare manteniamo un'italia centrodestra però salvini vai salvini prova salvini guarda le carte in mano agli altri e guarda che cosa si può portare a casa noi abbiamo portato a casa un contratto che almeno per iscritto alla legittima difesa al riconoscimento dell'autonomia alla lombardia al veneto e a chiunque la chiederà a il no a qualsiasi tassa sulla casa o qualsiasi tassa patrimoniale visto che i soldi che avete in banca sono già stati tassati e ipertassati a me sarebbe piaciuto fare il presidente del consiglio non è un governo solo della lega evidentemente non abbiamo ancora dico io la maggioranza assoluta e quindi occorre ragionare occorre dialogare da persone adulte e se arrivi a un risultato utile vai avanti altrimenti salta tutto questo sarà un governo delle cose da fare mese per mese e voi dovrete esserne insieme a me i vigilantes i controllori i co firmatari settimana per settimana l'idea che ho io è che ogni giorno che il buon dio manda in terra se avrà l'onore di far parte di questo governo vi racconterò che cosa stiamo riuscendo a fare e che cosa non stiamo eventualmente riuscendo a fare e per quale motivo non lo stiamo facendo quindi umiltà lealtà coerenza cuore libertà dai vincoli non ho paura di niente e di nessuno si parte si parte per fare poche cose e farle bene fare poche cose farle bene sempre con l'interesse italiano innanzi a tutto io ringrazio anche gli elettori della valle d'aosta della piccola orgogliosa e fiera valle d'aosta che ieri hanno dato l'ennesimo esempio di voglia di cambiare di mandare a casa la vecchia politica pensate che la lega non ha mai avuto un consigliere regionale nella regione autonoma valle d'aosta col vostro voto ieri ne avete eletti 7 7 la lega secondo partito della valle d'aosta dietro all'union valdotene che ha governato da sempre con due partiti pd e forza italia che non entrano neanche in consiglio regionale perché hanno preso il 5 e il 3 per cento c'è un enorme responsabilità la sento forte spero di sbagliare il meno possibile non dico che non sbaglierò mai sappiatelo e perdonatemi a priori degli errori li farò e li faremo solo chi non fa non sbaglia chi fa può sbagliare e spero di farlo il meno possibile e riportare a casa dei risultati dei fatti ripeto sul tema del lavoro delle pensioni della sicurezza della scuola della libertà di educazione della libertà di cura della libertà di scelta delle libertà delle libertà anche di andare a bruxelles a berlino a parigi o a dire signor no se servirà a dire signor no questo fa male all'italia questo fa male agli italiani mi spiace io sono rispettoso costruttivo positivo ma questo no ecco troppi si ci hanno fatto ingoiare vi hanno fatto ingoiare mi hanno fatto ingoiare negli ultimi anni troppi signor si no assolutamente servi no se non ci fossero le condizioni il governo non partirebbe il programma c'è la squadra c'è si parte e spero di arrivare il più lontano possibile ci sono delle differenze fra lega e 5 stelle è evidente ci siamo presentati con due programmi diversi e candidati diversi alle elezioni abbiamo fatto un enorme lavoro giorno e notte per smussare gli angoli e trovare dei punti comuni su alcuni punti non c'era e non ci sarà accordo evidentemente e quei punti non si toccano perché la pensavamo e continuiamo a pensare in maniera diversa su quello su cui la vediamo nella stessa maniera dritti lavoro meno tasse meno burocrazia e quindi grazie grazie a sara grazie a diego grazie a giorgio grazie a serena grazie ad andrea che succede andrea su sky siamo in diretta su sky faccio il cameraman per sky perché è importante comunicare per carità come rito prevede col presidente della repubblica con i giornalisti al quirinale è però il mio cuore con voi la mia testa è con voi e la strada del futuro la facciamo insieme facendo tante cose buone magari ogni tanto sbagliando ma rialzandoci sempre con un obiettivo ben chiaro in testa lasciare i nostri figli un paese migliore rispetto a quello che ci hanno lasciato i nostri genitori e quindi partendo dagli asili nido partendo dalle scuole partendo da una riforma dell'università partendo dalla stabilità del mondo del lavoro partendo dal taglio della burocrazia ecco il professor conte il premier immagino incaricato se il presidente vorrà è assolutamente esperto in semplificazione sburocratizzazione snellimento della macchina amministrativa che è quello che tante nostre aziende chiedono e quindi siamo pronti ci mettiamo la faccia ci mettiamo in gioco sarebbe stato più comodo stare in poltrona dire vediamo cosa fanno gli altri facciamo fare l'ennesimo governo a bruxelles o al quirinale e stiamo fuori a criticare no penso sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti tutti insieme se avrò l'onore di fare il ministro di questo paese lo voglio fare insieme a voi confrontandomi ogni giorno con le scelte prese è che però voglio condividere insieme a voi c'è tanto da fare l'italia è un paese con delle energie incredibili con dei ragazzi incredibili con degli artigiani incredibili dei commercianti degli imprenditori che resistono dei ricercatori con stipendi da fame con delle persone che potrebbero scappare ma vogliono rimanere qua ecco riportare in italia tanti nostri ragazzi e tante nostre ragazze che sono fuggiti per aprire un'impresa per aprire un locale per aprire un bar per aprire una partita iva all'estero qua vorrei che l'italia tornasse essere attrattiva pulita con tempi dei processi normali e non da quarto mondo nessuna giustizia punitiva nessuna giustizia punitiva tempi certi e certezza della pena perché un processo che dura 5 6 7 8 10 anni non fa mai giustizia né per l'imputato né per chi ha subito un torto e quindi c'è da fare spero di partire il primo possibile al presidente della repubblica abbiamo detto noi siamo pronti noi ci siamo il programma c'è le idee ci sono il cuore il coraggio e la squadra sono pronte ripeto frutto di un accordo di due movimenti politici diversi che però hanno detto proviamo ci diamo un calendario ci diamo delle cose da fare e magari chiara che sta seguendo da oltre oceano potrà ritornare qua e ringrazio adriana ringrazio marco ringrazio gianluca ringrazio alessandro ringrazio angiolino ringrazio voi che siete parte di questo cambiamento di questa rivoluzione tranquilla e del buonsenso perché senza di voi non ce l'avremmo mai fatta se venissime dovuto usare e contare solo giù su giornalini e giornaloni e televisioncine televisioncione per spiegare la nostra idea di futuro a questo paese non ce l'avremmo mai fatta quindi grazie per la fiducia che ci avete dato e che voglio meritarmi giorno per giorno sono pronto siamo pronti ringrazio lorenzo che ci ascolta su sky e ringrazio coloro che ci accompagneranno le critiche costruttive saranno le benvenute le critiche costruttive saranno le benvenute però la critica avviene dopo l'inizio di un lavoro non prima quello è pre giudizio quella non è critica è il ministro francese il parlamentare tedesco e tizio e caio il giornale che parla di dittatura di rischio di tracollo di debito quella non è una critica costruttiva quello è un pre giudizio da parte di persone che ci hanno portato al disastro se il debito pubblico che lasciamo ai nostri figli ai suoi massimi storici è perché evidentemente chi è arrivato prima di noi non ha fatto bene il suo mestiere le ricette economiche che ci hanno fatto ingoiare dicendo lo facciamo per il vostro bene per il bene dei vostri figli beccati la legge fornero perché nell'interesse dei tuoi figli beccati delle tasse sul risparmio e sulla casa perché nell'interesse dei tuoi figli beccati l'immigrazione fuori controllo perché ti pagheranno le pensioni come no sei visto saluto alberto e sua figlia anna saluto alessandro saluto camilla saluto andrea sì è vero ci vediamo il primo luglio a pontida per spiegare a tutta italia da nord a sud che cosa avremmo cominciato a fare e spero che da qui a domenica primo luglio ne avremo già fatte parecchie ringrazio daniele che parla di scuola ringrazio donato ringrazio francesco ringrazio patrizia ringrazio sara e spero che siate voi a ringraziarmi voi lo fate adesso e ne sono orgoglioso vorrei un ringraziamento sulle cose fatte sull'italia che torna a correre torna a sorridere torna a sperare e torna a costruirsi un futuro e a fare dei figli perché un paese che non fa figli è un paese che muore penso a chi ha riempito le vie di roma domenica per la marcia della vita e vi ringrazio ognuno la può pensare come vuole ma un paese che smette di fare figli è un paese che ha deciso di morire e che pensa solo a rimandare una morte migliore possibile ecco speranza futuro sorriso il suono delle campane le lacrime di un bambino la mamma col pancione la mamma non il genitore uno genitore due la mamma o il papà e poi ragazzi che dio ce la mandi buona perché serve anche questo è legalità onestà coniugata la capacità è una fiducia che vi chiedo e che vi chiederò settimana per settimana di riconfermare non voglio la fiducia a pacchetto chiuso no e quindi non sarà facile non avremo tanti amici ci saranno tanti ostacoli ci saranno tanti rischi lungo questa strada del cambiamento ho deciso che vale la pena percorrere ho deciso che vale la pena alzarsi della poltrona non più il tempo della critica del mugugno del lamento della rabbia dell'incazzatura è il tempo del fare è il tempo del coraggio è il tempo del cambiamento se non ci riusciamo neanche noi vuol dire che non so che cosa possa rimanere e quindi ringraziandovi abbracciandovi torno a immagermi in quello che sarà il futuro di questo paese ripeto senza promettere miracoli promettendo impegno lealtà onestà totale coraggio libertà e l'impegno a sbagliare il meno possibile non dirò mai a non sbagliare perché nessuno non sbaglia ma sbagliare il meno possibile e a farlo sempre e comunque avendo a cuore l'interesse dell'italia soprattutto e soprattutto grazie a presto a presto adesso i tempi li detta il presidente della repubblica noi siamo pronti a partire